L'associazione Unica Beach, guidata da Giussi Branella, chiede agli organizzatori del Carnevale di Giulianova di cambiare il programma che prevede una sfilata di cani in maschera. La Branella sostiene che questa iniziativa non sarebbe affatto rispettosa del benessere animale. Sì, assolutamente sì, sin dall'inizio, da quando ho visto il programma che era stato scritto sui social, che prevede la presenza dei cani in una sfilata mascherati e la presenza di associazioni che si occupano di cani rendagi, le quali associazioni porteranno anche questi cani all'interno della manifestazione. Quindi i cani che sono spaventati, che sono abituati a stare nei canili e nei rifugi, saranno presenti in questa sorta di esposizione e di sfilata. L'organizzatore l'ha presentato come un evento per la sensibilizzazione contro l'abbandono. In realtà il messaggio che passa è che i cani vengono utilizzati, utilizzati in qualsiasi modo, o ci si può divertire come in qualsiasi modo si possa, mascherandoli, quindi contrari a ogni forma naturale del cane, quindi senza il rispetto della tutela e del benessere degli animali. La Branella inoltre ha fatto notare anche che il programma del carnevale a quattro zampe si fa riferimento in modo impropri a associazioni operanti sul territorio, ricordando che Unica Beach è l'unica associazione nella zona comunale esistente da dieci anni e registrata nel registro delle associazioni del Comune di Giulianova. Sì, è l'unica associazione animalista del territorio del Comune di Giulianova, quindi qualsiasi evento, qualsiasi iniziativa, compresa la spiaggia per i cani, tra l'altro, il Comune voglia fare, deve necessariamente, anche per il rispetto dell'articolo 13 dello Statuto del Comune di Giulianova, chiedere e rivolgersi a noi come associazione competente in materia per avere tutte le necessarie informazioni, visto che non ne hanno in materia e non sono consapevoli di quello che fanno, per avere le istruzioni e sapere cosa possono e cosa non possono fare per la tutela e del benessere del cane.